Il figlio ha detto, quando non c'era ancora i giornalisti, c'era già la polizia, il 118, che l'unico indiziato per lui era uno che doveva pagargli un affitto. Questa persona doveva, ieri sera alle 8, portarsi nella casa della signora per pagare l'affitto. Il figlio ha detto così. La signora aveva un'altra casa con questa persona in affitto? Sì, aveva un'altra casa in affitto. Quando stamani hanno forzato, anzi la nipote ha aperto la porta, e hanno cominciato a urlare perché l'hanno trovata morta, poi hanno trovato un contratto sul tavolino, un contratto d'affitto sul tavolino e basta, non so altro. Personalmente questa persona non la conosceva? No, 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 assolutamente. Io ti riferisco a quello che ho sentito dal figlio che parlava davanti a un capannello di persone.